Un tavolo di lavoro permanente sul tema dell'energia che riunisca le categorie economiche e sociali lombarde per avviare misure e iniziative concrete in grado di incidere sui costi effettivi delle bollette dei cittadini e delle imprese è la proposta formalizzata dal presidente di Regione Lombardia, Tilio Fontana, durante gli Stati Generali per il Patto per lo Sviluppo, oggi a Palazzo Lombardia. Regione, ha spiegato Fontana, attraverso la propria azione amministrativa e con l'utilizzo dei fondi europei potrà attuare politica a sostegno delle produzioni di energia da fonte rinnovabile, dell'efficientamento energetico per edifici pubblici e non da ultimo sviluppare comunità energetiche. Vogliamo avanzare proposte condivise nel confronto con il governo e con l'Europa perché si possa intervenire con misure immediate per calmierare i costi delle bollette e modificare le attuali normative che in periodi straordinari come questi hanno dimostrato di essere inadeguata, ha continuato il governatore Fontana, ma dare anche suggerimenti per un piano energetico nazionale imprescindibile per il sistema paese e per la propria autonomia energetica.